Ma secondo te se ne accorge qualcuno che faccio video? Cosa succederebbe se il mondo resterebbe senza extraterrestri? Chiamati anche alieni, ufo o cosi? Gli alieni sono sicuramente qualcosa che sappiamo che cosa sono ma che non abbiamo mai visto, un po' come il tapiro della gualdrappa. Quindi la domanda che potrebbe sorgere più spontanea è Ma secondo te gli alieni si lavavano i denti? Ma prima di andare avanti dovreste seguirmi perché... Boh, non lo so. Ma provate! Quindi si lavavano i denti? Sembrerà strano perché non hanno i denti, ma 9 alieni su 10 si lavavano i denti. E sapevate che sono importantissimi per l'uomo? Sembrerà strano perché li vediamo sempre in giro per pianeti a fare non si sa che cosa, forse i TikTok. Ma sono importantissimi. E infatti scendono dai pianeti, fanno girare le piramidi, costruiscono i gabbiani spia. E sapevate che gli alieni sono i migliori amici dell'uomo anche più dei cani? Infatti, secondo una ricerca inglese, nessun extraterrestre ha mai azzannato l'uomo. Esistono? Boh, ma abbiamo captato un segnale proveniente da Alfa Centauri e sapete che cosa dice esattamente? Anche qui si prende Radio Maria. Ora sicuramente starete pensando che la causa del perché non li abbiamo mai visti è perché loro non ci hanno mai visti. Ma allora, di chi è la colpa? Si sono fidanzati? Ci sono troppi sensi unici? L'area B? Secondo voi? Ferma il video quando vuoi per trovare la risposta. E ti sei mai chiesto che cosa succederebbe se la Terra resterebbe senza dinosauri, senza aria o senza acqua? Trovi tutte le risposte nei video presenti nel mio profilo o nel mio canale YouTube.